Iniziamo con gli occhi aperti e un focus leggero, consapevoli dello spazio intorno a noi. Non fissiamo una cosa sola. Osserviamo tutto, con sguardo lieve. Mantenendo questo focus, prendiamo un paio di respiri profondi. Inspiriamo dal naso ed espiriamo dalla bocca. Nell'ispirare notate come i polmoni si espandono e il corpo si riempie d'aria. Nell'ispirare ecco un senso di pace, mentre i muscoli del corpo si rilassano. Un'ultima volta, ispirate dal naso ed espirate dalla bocca. Se preferite potete lentamente chiudere gli occhi. Prendetevi un momento per godervi questa sensazione di esservi fermati, di essere in pausa. Niente da fare, nessun luogo dove andare. Concentratevi sulla percezione del corpo che spinge verso il basso, del suo peso che fa pressione sulla superficie su cui sedete o sul pavimento. Come sempre siete coscienti del vostro corpo e dello spazio intorno a voi e notate i suoni che vi circondano. Notate se c'è resistenza a questi suoni. Lasciate scorrere ogni cosa mentre va e viene. E mentre state seduti oppure distesi, notate come si sente il vostro corpo oggi. E se ci sono parti in cui vi sembra di aver immagazzinato un po' di tensione. Alle quali farebbe bene lasciarsi andare. Soltanto per qualche attimo fate caso a come il corpo respira, ha la sensazione di salita e discesa. Non dovete fare nulla. Prendetevi un momento per concentrarvi su questo. Immaginate che sopra la vostra testa ci sia un flusso costante di calda luce solare che si riversa nel vostro corpo fino a raggiungere le punte dei vostri piedi. Dovete immaginare che questa luce vi riempie il corpo e che mentre lo riempie riesca a sciogliere qualunque malessere, qualunque tensione, a rilassare il corpo e rilassare la mente. Ripartiamo dalle punte dei piedi. Di nuovo, immaginate quel flusso costante di luce attraversare il vostro corpo. Riempire le punte, i piedi e superare le caviglie fino alla metà inferiore delle gambe. Una volta avviato il processo, si verifica e basta. A volte ce ne accorgiamo, altre volte la mente vaga. E quando la mente vaga, la riportiamo con gentilezza a quell'immagine mentale. Ancora, mentre la luce percorre il nostro corpo, scioglie la tensione. Arriva alla metà superiore delle gambe e i muscoli si distendono mentre continua a salire verso il bacino e la vita. Ogni muscolo, ogni tensione si distende e si risolve dentro la luce. Mentre prosegue attraverso l'addome e la zona lombare, qualunque tensione semplicemente si scioglie. continua a salire verso il petto e il torace. Qualunque tensione si dissolve nella luce. Di nuovo, questo flusso di luce solare si riversa da sopra la testa dentro il corpo. Scorre giù oltrepassando le spalle e percorre le braccia verso le mani, le dita e i pollici. Mentre scende lungo le vostre braccia, scioglie qualunque tensione, il corpo si lascia andare. Mentre continua a scorrere giù, va a riempire la zona del collo e della gola. Ogni parte si rilassa, la mascella sia inferiore che superiore dietro il naso e dietro gli occhi. Qualunque tensione scivola via. infine la luce solare raggiunge la punta della testa e anche se il corpo per intero è ora pieno di questa luce, il senso di pace, il senso di calore, il senso di spazio. Immaginiamo comunque che continuino. Adesso potete smettere di focalizzarvi sull'immagine, ma lasciate che la sensazione rimanga. e riportate la vostra attenzione al corpo, a quella sensazione di contatto, a tutti i suoni e allo spazio che vi circonda. aprite gli occhi lentamente quando vi sentite pronti. Sì.